e tu girai e basami su quello che salutate sai cosa vuol dire che ora devi urlare l'arrivo che si inizia ma vieni salati a tutti io sono qui e mi sono qui apri un luogo in giro e mi sono qui e tu mi fai come ci stai ma per te la partire è il sole si risolva sempre di su se fai una partire del mondo va a me la pancia stella del su ma per te la partire è il sole e ma per te il giocatore No, no, no No, no, no Grazie a tutti Grazie a tutti